Quella appena trascorsa per la città di Napoli è stata una settimana di Pasqua non facile da gestire. 265 mila persone sono arrivate in città, i turisti nella maggior parte dei casi e soprattutto quelli provenienti dall'estero hanno trovato alloggio nelle strutture alberghiere quindi rimanendo in città meno 48 ore. Insomma una Pasqua certamente all'insegna del turismo con l'offerta culturale che di certo non manca grazie alla presenza di musei e mostre di fama internazionale ma un afflusso di persone come quello legato alle ultime festività di Pasqua ha messo ancora una volta in seria difficoltà la tenuta dei servizi a Napoli a partire dai trasporti. Da decenni pesantemente al di sotto degli standard nazionali ed europei la scarsa adeguatezza dei mezzi pubblici, partenopei, gli autobus, i tram e lo stesso servizio di taxi cittadino si è fatta notare in modo netto. Sia domenica che il lunedì in Albis le strade sono state paralizzate dal traffico e tra i colpevoli c'è proprio il trasporto pubblico tra orario ridotto e personale insufficiente per gestire le oltre 260.000 presenze. Alla sezione centrale di piazza Garibali nel giorno di Pasquetto si è creata un'incadibile resta di utenti in coda per acquistare i titoli di viaggio con seri rischi per l'ordine pubblico e per la stessa incolumità dei viaggiatori. Difficoltà che sono state denunciate dall'Unione Sindacale di Base che ha messo in luce lunghe attese anche per l'alibus a Capodichino, file interminabili per salire a bordo di un autobus che porta i turisti dallo scalo internazionale fino al centro cittadino, non certo un piacevole biglietto da visita per una città internazionale come Napoli e poi a far preoccupare anche la disastrosa mancanza di personale. In ANM, secondo gli ultimi dati, ci sono mille dipendenti in meno rispetto al periodo antecedente alla pandemia Covid. I disservizi si sono avuti negli orari di punta anche a causa delle limitazioni sulla linea 2. E questa è la spiegazione dell'assessore ai trasporti Edoardo Cosenza. La linea 1 era quasi inutilizzabile. L'alflusso è stato da record e per quanto riguarda le code per i biglietti è sorprendente che ci siano ancora con i tap and go e i tagliandi online disponibili. Spiegazioni che i cittadini potranno interpretare a loro personale discrizione. I dati per ANM sono comunque allarmanti. Servirebbero infatti 300 unità da assumere. Basta pensare che manca personale persino nell'area uffici.